Il nostro lungimirante presidente Mauro Castelli ha pescato bene anche nell'allenatore. Omar non ha certo bisogno di dimostrare il suo valore perché è un allenatore che ha già vinto in queste categorie quindi sappiamo bene quello che è capace. È chiaro che entrare in corso d'opera in una squadra così un po' difficile e fare 5 vittorie su 5 ovviamente bisogna anche dargliene atto quindi ottimo lavoro, bravi tutti, bravissimi. L'unica cosa è che dobbiamo però non calare la tensione come abbiamo fatto oggi nei primi due quarti secondo il mio punto di vista e so che è difficile paragonarsi con una squadra che magari è un po' più debole quindi si gioca peggio però questo non significa che dobbiamo dimenticarsi questo termometro a casa e ripartire da quello della settimana scorsa perché domenica andiamo ad affrontare una squadra temibile come Costone Siena e dopo lì che arriva Prato. Quindi adesso dobbiamo pensare veramente a fare un passo importante in avanti dobbiamo provare a vincere queste partite, sarà molto dura ma dobbiamo provarci a tutti i costi.